Una panchina rosso sangue sull'asfalto grigio di via Nuova Poggio Reale. E' la terza installazione di un progetto sociale contro la violenza sulle donne. Un vistoso segno urbano per fermare un momento lo sguardo e la mente su un fenomeno odioso e poco visibile. Il progetto panchina nasce su un territorio come quello di Scampia e poi pian piano c'è stata un'evoluzione la quale ci ha dato la possibilità di arrivare oggi a Poggio Reale e poi speriamo di arrivare al centro storico. Inaugurata nell'ambito del marzo donna, l'opera è stata realizzata dal laboratorio creativo Gattablu della cooperativa ERA. Noi dobbiamo riuscire ad arrivare collettivamente sul problema del contrasto alla violenza di genere. Creare consapevolezza di questo fenomeno che è un fenomeno, voglio dire, oramai non più nascondibile per noi, urgente e necessario. Ringraziamo l'associazione Gattablu che oltre a aver portato questo elemento importante sul contrasto della violenza di genere ha agito attraverso la sua associazione sull'importante tematica dell'integrazione.